Un gioco di squadra per la festa del 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Si presentano insieme esercito, guardia di finanza, marina, militare e carabinieri con tante iniziative ma soprattutto con le caserme cittadine che saranno aperte alla cittadinanza. Un ruolo molto importante lo avrà la caserma Pasquali che mostrerà tutte le specialità degli alpini del nono reggimento in un'esperienza interattiva per grandi e piccini con quattro aree tematiche. Non vuole essere solo una giornata in cui i cittadini possono entrare in caserma e vedere cosa c'è oltre le mura che normalmente sono chiuse ma potrà vivere anche un'esperienza che vuole essere interattiva e coinvolgente. Avremo quattro aree tematiche, dalla storia all'area capacitiva, alla possibilità di provare l'ebbrezza di una palestra di rampicata e vedere le nostre squadre soccorso fare delle attività altamente specialistiche. Perciò è una giornata che vuole essere coinvolgente, che vuole essere aperta a tutti e speriamo veramente ci sia una grande risposta da parte degli aquilani. Un esercito che è sempre più aperto anche alla cittadinanza, un modo per mostrare poi il lavoro che voi portate avanti quotidianamente che è fondamentale per la popolazione e questo rafforza un po' il legame che nel caso del nono alpini è già stretto con la città però non fa altro che risuggellare un'amicizia. Assolutamente sì, l'esercito fa molto e bisogna anche far vedere, far capire al cittadino qual è lo sforzo che viene fatto ogni giorno. Noi ci siamo sempre nel motto dell'esercito e il 4 novembre vogliamo esserci ancora di più e vogliamo soprattutto che ci siano un sacco di aquilani a vedere quello che facciamo ogni giorno.